www.mariziopoli.it, welfare aziendale, approvato il decreto lavoro. Cosa succede per il fringe benefit? E' ufficiale per il 2023, ci sarà l'inanziamento della soglia di fringe benefit a 3.000 euro, ma solo per chi ha figli a carico. Per tutti gli altri resta la soglia dei 258,23 euro. Quindi figli a carico, si intende anche figli nati fuori da riconosciuti e fuori dal matrimonio, figli adottivi o affidati. C'è l'aspetto che molti imprenditori, datori di lavoro, danno il bonus carburante. Il bonus carburante è un valore non superiore ai 200 euro per l'acquisto di carburanti per autotrazione, non imponibili fiscalmente e deducibili per impresa. Ma attenzione, è fiscalmente esente, ma la legge di conversione del decreto ha previsto la novità dell'improvvisità ai fini per evidenziali. Quindi bisogna prestare attenzione. Vi riporto qua l'articolo. Buon welfare a tutti!